Per trovare un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì quando un esteso possente campo di alta pressione ingloberà gran parte dell'Europa. Le perturbazioni di fatti saranno molto più ad ovest proprio in aperto atlantico a largo dell'Irlanda e del Portogallo. Nel dettaglio la previsione per l'Italia perché qui ritroveremo sempre clima asciutto su un po' tutte le nostre regioni a parte della residua variabilità tra la Calabria e la Sicilia all'estremo sud con sporadici piovaschi ma nulla a che vedere sulla Sicilia con il violento maltempo dei giorni scorsi. In sintesi quindi la mappa dell'Italia una giornata anticiclonica, cieli sereni o poco invulosi dappertutto, temperature stabili o in lieve aumento e qualche rapido fenomeno tra la Calabria e la Sicilia con venti da est a nord est. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.